Lorenzo Rossetti, all'Atalanta per fare bene sicuramente, soprattutto per recuperare dall'infortunio e poi iniziare a dire la tua. Sì, l'Atalanta è una società molto importante, organizzata e sono qui per recuperare l'infortunio, ma anche per cercare di mettermi in mostra il primo anno di Serie A e non sarà per niente facile. Ci vorrà calma perché il campionato di Serie A non è la Serie B, la Serie A è molto più difficile, però piano piano si cerca di fare le cose come si deve, di mettersi in mostra. Il direttore generale Marino, in fase di presentazione in conferenza stampa, ha definito sia te che Spinazzola due giovani di belle speranze che faranno parlare di loro stessi. Ringrazio le parole del direttore, però questo speriamo e stanno dimostrarlo giorno dopo giorno, in campo, in allenamento, in partita, tutto.